Antonello Tessanto Severino, principe di Salerno, conte di Marsico e grande ammigaglio del regno di Napoli e madama Costanza da Montefeltro, figlia illustrativa. Siamo con Michele Di Candia, sindaco di Teggiano e oggi sindaco dell'antico Stato di Diano perché è iniziata alla tavola della principessa Costanza tre giorni davvero importanti per Teggiano e per tutta la comunità tegianese. Questa sera battezziamo la ventitresima edizione di questa manifestazione che nasce 23 anni fa e coloro che l'hanno inventata hanno ripercorso quello che era la storia del nostro paese, hanno avuto l'intuito giusto. Io come sindaco sono contentissimo di partecipare a questa manifestazione che ha una cassa di risonanza regionale e nazionale ma direi anche oltre l'oceano. I nostri connazionali che si trovano oltre l'oceano qua a New York festeggiano anche loro questa rievocazione. Detto questo mi riempie di orgoglio come tegianese anche perché è un momento che diciamo che tutto il territorio, direi che questa manifestazione non è solo di Teggiano, direi che questa manifestazione della provincia di Salerno e di tutta la regione Campania tant'è che la regione ci ha investito. Noi abbiamo fatto il presentato progetto per la tavola della principessa Costanza, è stato finanziato, questo dimostra che anche la regione ci crede in questa manifestazione. E questo è il vero turismo, speriamo che ci caratterizziamo sempre di più, facciamo rete nel nostro interno, ringraziamo l'assessore Corrado Matera che oggi recita un ruolo importante per il nostro territorio e che dopo tanti anni nella storia politica si è verificato di avere una rappresentanza a livello regionale. Questo significa che possiamo incominciare noi dall'entroterra dove realmente conserviamo quelli che sono i beni architettonici e culturali, possiamo farli conoscere in tutto il mondo. Siamo con l'avvocato Biagio Matera, presidente della Proloco di Teggiano, organizzatrice di questo grande evento che ha preso il via questa sera alla tavola della principessa Costanza. È iniziato con successo? Sì, è iniziato con successo, c'era tantissima gente, di solito la prima sera è stata sempre quella più povera, però povera nel senso di meno gente del solito. È grande il lavoro alle spalle di questa manifestazione, davvero grande ed è una manifestazione che echeggia in tutta la regione. Sì, è un lavoro sicuramente notevole che parte da alcuni mesi e che richiede un impegno notevole. Poi però quello che è la soddisfazione, perché ripeto anche stasera quello che abbiamo avvertito era tantissima gente e quindi questo significa che quello che noi proponiamo è sempre gradito. Speriamo che possiamo continuare, che il tempo ci permetterà di mettere in mostra quello che abbiamo preparato.